E allora, dottoressa, continuiamo a parlare di tumori femminili. Sono tante le donne che chiedono aiuto dopo la diagnosi di un tumore? Sì, sono tante. Autonomamente molte, in particolare dopo la fine dei trattamenti attivi. Ma noi seguiamo le pazienti precocemente, fin proprio dagli accertamenti diagnostici, e quindi offriamo a tutte le donne che afferiscono alle breast unit un supporto psicologico. E invece, quelle che non chiedono aiuto, perché non lo fanno? Beh, i motivi sono tanti. Sicuramente tra i principali, il fatto di ritenere ancora che farsi aiutare psicologicamente significa farsi aiutare da un operatore che si occupa di problemi mentali, quindi c'è ancora una resistenza a questo. Poi c'è la difficoltà sicuramente a confrontarsi con se stessi, con la propria interiorità, e quindi tirar fuori anche problematiche che sono precedenti al cancro. Ecco, perché un momento di crisi come questo fa emergere problemi effettivamente messi da parte. Quali sono le paure principali delle donne? Beh, prima tra tutte, nel momento stesso proprio degli accertamenti diagnostici, quindi ancora prima della diagnosi di cancro, la paura di morire. Al di là della consapevolezza dell'efficacia dei trattamenti oncologici, comunque le donne o gli uomini hanno la paura di perdere la propria vita e quindi di lasciare i propri cari. A proposito dei propri cari, è innegabile che le donne in linea di massima hanno la responsabilità di tutta la famiglia. Quanto pesa questa quando c'è una diagnosi di tumore? Molto, pesa molto, specie se hanno figli piccoli, ma anche se sono grandi, perché questa idea di non vederli crescere, di non partecipare al loro futuro, è una delle angosce più profonde delle donne oncologiche. In cosa può aiutare un aiuto psicologico in questi frangenti? Beh, può aiutare in molte cose, si basa fondamentalmente sulla possibilità di offrire a queste donne un confronto con questa sofferenza psicologica che è molto elevata in tutte le fasi della malattia oncologica, di confrontarsi, di elaborare tutte le perdite che in particolare i trattamenti hanno determinato nella loro vita con un obiettivo importante che è quello di restituire alle donne la possibilità di proiettarsi nuovamente nel futuro. Che tipo di strumenti fornisce la psicoterapia? Strumenti appunto di confronto e di superamento della sofferenza, cioè di saper gestire la propria ansia, le proprie paure, le preoccupazioni, la depressione, che è molto significativa, con qualcuno che accompagna questa sofferenza, comprendendo il loro disagio, il loro dolore e mediando anche, questo lo vorrei sottolineare, mediando agli altri membri dell'equipe, in particolare ai medici, i loro bisogni. Grazie, grazie dottoressa. Tutto questo è molto importante, veramente.